vai vai sopra la settimana o fa 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 flashbook no 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 ma cosa c'è? tu fa flashbook vieni, vieni, vieni parecchio chiamano flashbook flashbook, flashbook allora, come? un gira giù dai da c'è là posso andare? si, si va io, come un gira giù è fuori ma andate come Antonello venditti spingiana della sua bocca Cinzia, torna a casa una bella canzone d'amore e prendiamo a tutti questi amici del cuore